Per un artista emergente è preferibile iniziare con opere di piccolo e formato? Questa è una leggenda metropolitana del mondo dell'arte, o meglio un'usanza. Semplicemente un artista emergente inizia con opere più piccole in quanto sono più facilmente vendibili, perché hanno un prezzo minore. Allora, l'artista emergente, secondo me, il problema non è tanto nella dimensione dell'opera che realizza, ma bensì nella tipologia dell'opera e nella sua ricerca artistica. La dimensione è una diretta conseguenza. Non vale quindi il grande detto un grande pennello per una grande opera, ma bensì cerchiamo di capire la qualità dell'opera che vuoi proporre. E di conseguenza, poiché essa sia piccolo o grande, sarà solo il risultato di una ricerca artistica.